Buonasera a Londra, l'altro giorno ero al ristorante e ho chiesto a un'amica se voleva un po' di pane. Lei mi guarda e mi fa, no 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 no, sono a dieta, lo mangio solo integrale. Ha realmente ragione? Scopriamolo! Per prima cosa cerchiamo di definire in Italia che cos'è integrale, perché molto spesso nelle farine integrali che noi mangiamo vengono raffinate, viene tolta la crusca esterna, viene torto il germe lipidico all'interno, quindi diventa una farina raffinata al 100% e successivamente si riaggiunge la crusca. Così il chicco non è più intero perché manca la componente lipidica che abbasserebbe i tempi di conservazione della farina e quindi noi mangiamo integrale, ma in realtà manca ancora una parte importante al cereale che è stata tolta. Nutrizionalmente parlando non è così grave, se seguiamo una dieta varia e bilanciata amen non succede niente, ma comunque dobbiamo essere coscienti che c'è integrale ed integrale. Nutrizionalmente parlando, una farina per essere integrale deve avere almeno 5 grammi di fibre su 100 grammi di prodotto. I cereali più comuni che possiamo trovare integrali sono il grano, il riso e il mais, il farro, l'orzo, l'avena, il segale, il miglio e il camut. Tra gli pseudo cereali invece troviamo la quinoa, il grano saraceno e l'amaranto. I nostri antenati, almeno negli ultimi 10.000 anni, mangiavano tutti integrale al 100%. Poi nel corso dell'evoluzione dei vari prodotti alimentari si è preferito l'integrale perché generalmente è un prodotto molto più digeribile. Chi ha problemi a livello digestivo, chi soffre di colon irritabile, normalmente quando mangia integrale può soffrire di più di questi problemi. La perdita dell'integrale toglie dei micronutrienti importanti al cereale, ma c'è anche da dire che questi micronutrienti purtroppo sono poco biodisponibili. Quindi anche se integrale conviene sempre e comunque, e il messaggio che dovete portarvi a casa da questo video è di preferire, a meno che non abbiate problemi digestivi, i prodotti integrali, ma non basta quello per avere una dieta varia e bilanciata. Nelle fibre alimentari troviamo anche dei fitati e degli antinutrienti che i sostenitori della paleo sostengono fare malissimo, ma che in realtà vengono in gran parte disattivati durante la cottura. Quindi i vantaggi tra mangiare integrale e i danni che eventualmente potrebbe provocare sono comunque tutti a favore del mangiare integrale. Se dal punto di vista della salute, come abbiamo visto, conviene assolutamente prediligere il chico intero, se ha il germe ancora meglio, dal punto di vista invece del dimagrimento cambia ben poco. L'integrale ha il grosso vantaggio di aumentare un pochettino il senso di sazietà, di chelare e quindi di abbassare leggermente le calorie dell'alimento, ma se noi mangiamo 100 grammi di pasta asciutta raffinata, al massimo per eguagliare possiamo mangiare 110 grammi, 108 grammi di pasta integrale e non di più. Non dobbiamo fare l'errore che siccome è integrale possiamo mangiarne quanto vogliamo, possiamo abbondare, possiamo non contarlo, perché alla fine il contenuto calorico di una farina raffinata o integrale non è così differente. Anche se l'indice glicemico nelle varie tabelle lo possiamo ritrovare abbastanza variato tra un e l'altro, il carico glicemico e metabolicamente come si comportano nel nostro organismo non cambia così tanto. Ormai chi ci segue sa che è la glicemia nelle 24 ore a fare la differenza e che è il contenuto glucidico totale a influenzare realmente i valori ematici e la risposta insulinica. Dal punto di vista del dimagrimento dà sicuramente più risultati mangiare meno ma raffinato che in modo consistente mangiare di più ma integrale. L'ideale poi come sempre non è scegliere uno o l'altro ma prendere il meglio tra tutti e due, quindi mangiare integrale nel giusto quantitativo. Per concludere quindi alla mia amica che l'altro giorno voleva mangiare il pane integrale, che cosa le posso dire? Che se dal punto di vista della sazietà le cambia qualcosa che ben venga, ma se pensa che semplicemente perché è integrale, perché almeno il picco glicemico allora dimagrirà di più o ingrasserà di meno, purtroppo rimarrà sempre delusa. Non esistono prodotti, alimenti che fanno ingrassare, non esistono cibi che fanno dimagrire, è il nostro bilancio energetico che alla fine della giornata, alla fine della settimana, proponderà per un'omeostasi lipidica verso il dimagrimento o un peso stazionario o addirittura per il suo aumento. Gli ultimi consigli che possiamo darvi è guardate a livello digestivo l'introduzione degli alimenti, che cosa vi comporta, scegliete se potete degli alimenti sani e meno lavorati, quindi più integrali possibile con il germe se lo trovate, che ha anche delle vitamine liposolubili e aumenta anche lui il senso della sazietà, ma infine non fate gli ortoressici e non perché trovate delle farine raffinate, oh mio Dio è veleno. Purtroppo molto spesso degli esperti dicono che la farina 00 è un veleno, ma non è assolutamente così per fortuna, tant'è che se andate a ricercare per esempio le dichiarazioni di Berrino, poi anche lui ha ritrattato questa affermazione perché nutrizionalmente non possiamo dire che la farina 00, che in fondo è un amido facilmente assorbibile, causa dei problemi se viene ingerito nel giusto quantitativo nel nostro organismo. Non cercate così di colpevolezzare questo o quell'altro alimento, è la nostra alimentazione nel totale a far la differenza, è il nostro stile di vita e come sempre il segreto è che non esistono segreti. Noi ci vediamo mercoledì, abbiamo un'importante novità, uno scoop. Io vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale, mettete la campanella per rimanere aggiornati e ci vediamo alla prossima.